E' bene cari amici Granata, una piacevole sorpresa qui di fronte allo Stadio San Siro, il Toro Club Picciotti Granata, sezione di Agrigento. Agrigento, sì, quelli della Valle dei Templi. Quelli della Valle dei Templi. Quanti siete venuti qui a seguire il Toro e come vi siete organizzati per questa trasferta? Oggi siamo cinque, ci siamo organizzati, siamo partiti questa mattina in aereo, pernotteremo qua e torneremo domani mattina. E' bene, quindi la fede Granata si sposta con tutta la squadra, la segue per tutta Italia, è un grande successo anche questo? Quello sì, quello sì, quello non manca mai. Noi di solito ci organizziamo in modo che almeno noi di Agrigento ci siamo sempre presenti. E' bene, quindi allora salutiamo i Toro Club Picciotti Granata, sezione di Agrigento, i tifosi del Toro e anche i lettori di Toro News, che sia una bella partita. Certamente, sempre Forza Toro e speriamo di portare un risultato a casa. Oh, shit!